io ritrovo con piacere Totò Genovese insomma ci avviciniamo verso questo turno infrasettimanale tornerai a Reggio Calabria che effetto ti farà tornare dove hai lasciato ottimi ricordi ben trovati innanzitutto grazie Giovanni grazie va beh sarà un'emozione particolare perché come ti ho detto quando ero già a Reggio Calabria per me Reggio non è solo un posto dove ora posso dire di aver giocato ma è un posto di cui ho sempre sentito parlare sin da piccolo perché mio papà è stato sempre il tifoso della viola quindi automaticamente per me Reggio è un posto speciale quindi avrò sicuramente una certa emozione oggi ancora di più perché comunque ho giocato per questo club e troverò tante persone a cui voglio bene con cui mi sento spessissimo persone che fanno parte del club ma anche persone appunto estranee che si sono già diciamo fatte vive nelle ultime ore quindi ecco ti ripeto sarà un'emozione speciale senza tutto sarà piacere a tuo papà che insomma a palmi sta ritornando la pallacanestro piano piano partendo dal basso finalmente è arrivata anche l'affidazione alla federazione quella che mancava da ormai un decennio e poi insomma piano piano anche dal punto di vista delle strutture qualcosa si sta muovendo tornando a parlare di questo campionato di serie B come lo definiresti questo campionato? è un campionato molto molto particolare dove ne succedono ogni domenica di tutti i colori adesso è caduta Orzi Nuovi dopo una striscia di invincibilità pazzesca Capodorlando vince a Reggio e poi perde in casa Reggio Calabria sfiora è successo all'Overtime che è successo? Che è successo? Che stai vivendo con la tua becca? Anche noi abbiamo vinto il recupero perché noi abbiamo giocato anche mercoledì 30 novembre abbiamo vinto contro Lumezzane che secondo me è una delle scuole più attrezzate di questo girone anche perché ha un organico che è stato riconfermato dalla scorsa stagione in questo campionato fa tutta la differenza del mondo oltre naturalmente ad avere giocatori di qualità però poi sabato sera abbiamo perso con Ragusa che era anche rimaneggiata in quanto gli mancava un giocatore importante per loro come Sorrentino quindi è un campionato pazzo perché poi Lumezzane sappiamo che ha vinto Orzi Nuovi che era in battuta bisogna stare attenti ogni domenica nessun risultato è scontato per quanto riguarda Bergamo noi dobbiamo cercare di avere continuità nelle prestazioni ad esempio con Lumezzane abbiamo fatto una prestazione più che dal punto di vista offensivo dove abbiamo diciamo tante bocche di fuoco dal punto di vista difensivo quella prestazione lì fatta con Lumezzane non siamo riusciti a ripeterla sabato contro Ragusa quindi noi dobbiamo avere questa capacità senza dubbio è dovuto al fatto che 6-7 decimi della squadra sono non under ma io dico stra-under nel senso che sono giocatori qualcuno ha avuto degli sprazi scorso anno ma in gran parte non aveva mai messo piede in un campionato senior prima di questa stagione quindi ecco è normale ma dobbiamo cercare di farlo diventare meno normale nel senso che dobbiamo avere continuità perché è un campionato che non fa sconti in quanto c'è la riforma e quindi ogni domenica è basilare per raggiungere poi l'obiettivo finale insomma io l'ho anche scritto per la Pallanestro Viola a questo punto arrivati a questo punto mettersene 4 di sotto è diventata impresa perché si tratterà di impresa qualora si andasse a manifestare però nomi alla mano teoricamente tutto può ancora succedere è un leone ferito è un leone con tantissimi nomi che probabilmente le altre squadre non hanno ma come tu hai ben detto è un girone molto molto particolare diverso che Pallanestro Viola ti aspetti mercoledì nel tuo vecchio palazzetto dove insomma hai dispensato canestre importanti nel primo anno in B della Pallanestro Viola guarda prima di tutto per me sarà particolare anche perché purtroppo come sai è venuto a mancare un nostro amico carissimo quindi per me quando entrerò lì e non vederlo sarà un dramma anche perché io come tutti sanno quando sono in stagione il palazzetto diventa la mia seconda casa se non in alcuni casi la prima casa quindi ero abituato ad andare al Pentimele molto prima andare via molto dopo e quindi a vivere molto il palazzetto quando praticamente non ci sta nessuno mentre al Pentimele c'era sempre una persona e quindi per me tornare lì sarà un'emozione speciale soprattutto da questo punto di vista per quanto riguarda la Pallanestro Viola è una squadra che comunque rispetto all'inizio sta lì sta lì, non molla conosco oltre ad alcuni giocatori ma soprattutto lo staff tecnico Domenico Pasquale sono allenatori che non mollano mai e quindi loro vedrai che lotteranno fino alla fine io già un mese fa dicevo, spogliatoio da noi che la Viola non muore mai e soprattutto andare a vincere il Reggio Calabria è sempre molto difficile quindi per noi questa partita qua è fondamentale ma sarà un avversario molto molto ostico ostico perché ha dimostrato che può lottare contro tutte le squadre soprattutto a Reggio Calabria nell'ultima domenica l'ultimo sabato a Monfalcone che anche in trasferta la squadra è cresciuta quindi sì il fatto che tu dici per loro sarà difficile mettersene quattro dietro ma secondo me non è impossibile e tutte le squadre che vengono a giocare a Reggio Calabria devono stare attenti noi dobbiamo stare ancora più attenti e affrontare la partita come se affrontiamo ecco orzi nuovi ok perché perché comunque ti ripeto un'ulteriore volta Reggio Calabria è partita dopo quindi ha subito un pochettino questa partenza in ritardo ma ora con l'ultima aggiunta anche di Amarvalici che conosco bene perché ho giocato insieme a lui e Giulianova sì sicuramente una squadra molto temibile che non merita quella posizione in classifica attualmente quindi ecco bisogna affrontarla da parte nostra con quell'attenzione ecco con l'attenzione che metti quando quando incontri Orzi Nuovi San Vendemmiano Mestre bisogna affrontarla così se non l'affrontiamo così andiamo andiamo incontro al patibolo come si può dire ok quindi questo deve essere il nostro atteggiamento io lo penso penso che invece il tuo avversario dovrà fare l'inverso e ci stanno già provando lottare su ogni pallone come con lo status che è la realtà di ultime classifiche con una vittoria su dieci partite perché è una triste realtà e tocca provarle tutte per provare a strappare punticini durante questo campionato che ti sta rivelando secondo me ben preparato grazie mille per l'affermazione di prima io solitamente non faccio quella domanda perché sai benissimo quanto possa essere legato a Pasquale è stato un 2002 pazzesco da questo punto di vista in negativo perché abbiamo perso tantissimi amici da Gustavo Dolotti a Cesare Sant'Ambrogio eccetera eccetera è una lista troppo lunga è troppo troppo gravosa però il pensiero per Pasquale è sempre gradito anche perché sai quanto lui era legato a te io ricordo quando stavi recuperando all'infortunio gli facevo ma Totò Totò ha fatto un bicicletta e un po' di allenamento domenica gioca va bene va bene perché tu avevi questa bicicletta dove ora c'è il suo maxiposter con la sua faccia e ti mettevi proprio lì guarda non te la posso far vedere ma praticamente qua fuori c'è il giardino in un angolo c'è la bicicletta con i tesi quindi c'è quella infatti quando qualcuno viene qua che è il giocatore gli dico quella lì è la bicicletta del pentimela quindi c'è un pezzo di pentimela anche qua a casa mia devi sapere che quell'anno qualcuno se ne andava senza salutare e poi faceva i bilanci guarda a Totò non gli posso dire niente ci ha fatto salvare è venuto mi ha salutato e gli ho dato la bicicletta perché se ne è meritata va bene va bene va bene e sì sì perché io appunto con il discorso di prima siccome i palazzetti i palazzetti sono la mia la mia casa soprattutto nei dieci mesi della stagione prima di andare via da Reggio Calabria io con la famiglia mi sono fermato al pentimele e ho salutato Pasquale capito e poi sono andato via naturalmente parlo della volta che ho lasciato Reggio come il giocatore della Viola perché poi sono tornato naturalmente sì 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 poi ci siamo visti c'è stato il discorso con Andrea Pellicano con l'Aleandre eccetera eccetera perché tu sei sempre super attivo anzi spero che nella prossima estate riusciamo a fare qualcosina insieme perché sono sempre iniziative bellissime nella formazione delle giovani e tornando al discorso del tuo feeling con Pasquale all'inizio non è che è stato così in illiego anche perché dice ma questo arriva si ferma più degli altri io devo aspettare che deve tirare e quanto deve tirare ma che vuole ma lui è fatto così lui deve più degli altri che deve fare e poi e poi ti ha capito ti ha capito sì sì vabbè ma ma poi si è staurata anche una specie di fiducia quindi se doveva lasciarmi 10 minuti un quarto ora in più e lui andare prima di me sapeva che io poi dopo finivo chiudevo e me ne andavo sì sì quindi niente stiamo toccando un argomento un po' complicato che mi emoziona un po' complicato sì sì assolutamente ti posso soltanto dire che adesso un caro amico di Pasquale che ne ha preso le retini che tu conosci molto bene che è fofo è fortunato sta provando a fare lo stesso con quei spizzichini anche lui ormai apre più il palazzetto è qualcosa di meraviglioso insomma con la speranza che insomma che qualcosa possa cambiare perché tu sai benissimo che nelle squadre di basket quando si vince le cose vanno sempre meglio anche dal punto di vista della faccia e obbiate tocca tocca rimanere le leghe che squadra è la tua Bergamo te l'ho detto la la nostra è una squadra che ha grande potenzialità perché perché ti ripeto ha giovani di belle speranze che giocano a pallacanestro ma devono diventare giocatori e noi ci stiamo impegnando per questo perché l'obiettivo di quest'anno oltre che diciamo mantenere la categoria è appunto questo quello di di far crescere questi questi giovani naturalmente prima lo facciamo meglio è poi tu sai il talento sta più nella parte offensiva quindi noi siamo stati all'inizio più una squadra offensiva però poi per fare il risultato bisogna chiudersi al riccio dietro esatto esatto difendere come ti ho detto all'inizio noi dobbiamo dare continuità a questo aspetto perché l'abbiamo dimostrato contro Umezane ma non l'abbiamo dimostrato contro Ragusa forse perché eravamo un pochettino appagati dalla prestazione di due o tre giorni prima ma questo campionato non permette questa cosa qua perché ogni squadra va in campo perché sa che due punti sono fondamentali ok perché vanno giù in quattro direttamente e poi ne vanno giù altre quattro tramite playoff playout chiamali come vuoi quindi bisogna stare molto attenti quindi noi siamo una squadra giovane che sta crescendo dobbiamo crescere il prima possibile dando continuità alle prestazioni buone che abbiamo fatto perché qualcosa di buono sicuramente abbiamo fatto ci vediamo mercoledì in bocca al lupo ci abbraceremo come è doveroso che sia e poi ovviamente che vinca il migliore un caro abbraccio e ci vediamo tra qualche ora insomma ciao grazie mille Giovanni ciao 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 Grazie a tutti.